Buonasera, cosa ne pensa dell'amministrazione Brucci? Brucci, quindi sindaco di Genova? Dal poco che posso seguire mi sembra una persona molto fattiva, disponibile, giudicare da vicino però bisogna essere addentro, essere un po' più politicizzati e sicuramente anche un po' più informati. E invece per quanto riguarda il Ponte Moranti, secondo lei si sta facendo qualcosa? Sono arrivato a Genova nel 1956 e non c'era, passavo sotto, andavamo nel Savonese, nel Cunese, quindi che dire, è nato mentre io c'ero, c'è nulla da dire, le tecnologie erano quelle da quanto sempre e è stato un tiro e molla di responsabilità forse mancate, cose non. Niente, di più dire, io penso sempre ai due sopravvissuti che sono venuti giù e che si sono salvati per magari delle situazioni di rimbalzo. Va bene, io la ringrazio allora. Grazie a voi. Grazie. Grazie.